Allora, passiamo al prossimo interprete, di Renga, Renga, di Renga, fracce di te, dirige l'orchestra il maestro Gianni Vesicchio, 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 Vesicchio mi piace, canta Paolo, Paolo con fracce di te di Francesco Renga, applauso! Ecco, eccomi in chiere tra le dita e sente sconosciuta intorno a noi Venderei da pezzi la mia vita ed essere un minuto come un uomo Ma guardami da un suono uomo che ha di credere in più Poverà il mare di sì, lo so, il tempo passa e non ce la vai più ad aspettare Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te Io mi perdo nel sfumo di libri parole per fingere che c'è qualcosa, qualcosa L' 是o l'терuntoucho E il silenzio che sa Lo in questo cammino Io provo, io uomo Me cosa noite di te Sei ripeto, ho sempre quel ricordo Senti a me che era il figlio d'oltre Senti a me, con quel sorriso stroppo Chissà che ha finito i giorni suoi Quando a me mio avrò qualcosa fu sul soggetto Evitarmi il male Oh no, starò seduto dentro a questo mar Adesso nel mare Qui non c'è mai nessuno Che mi parli di te Io mi parlo nel suo Dive parole Perfine Que E se poteva qualcosa E silenzio che c'è lungo questo cammino io trovo e un uomo puoi passare di te lungo questo cammino io trovo e un uomo è tua sedile